Buongiorno Yusef, c'è stata una grande prova contro il Napoli, un'ottima prestazione di squadra, adesso uno scontro diretto casalingo, una partita in cui conta solo vincere. Sì, abbiamo preparato bene la partita di Napoli come volevamo, è stato un peccato perché penso che meritavamo molto di più, adesso abbiamo uno scontro diretto in casa e vogliamo vincere per conquistarci questa salvezza che ce lo meritiamo. In crescita anche le tue prestazioni contro il Napoli c'è stata una prestazione più che positiva mentre all'inizio hai avuto un po' di difficoltà, ce le puoi spiegare se adesso si è soddisfatto di come sta proseguendo la stagione? Sì, penso che sia normale quando arrivi a gennaio da un modo di giocare totalmente diverso non sia così facile. Ora sto cercando di dare tutto in allenamento per poi arrivare alla partita il più pronto possibile, sia fisicamente che mentalmente. Carmen Tommasi, Telerama. Buongiorno, io volevo sapere, secondo lei qual è la ricetta per battere la Samp e dimostrare a tutti di essere usciti da questa crisi dopo comunque una prestazione importante come quella con il Napoli, nonostante la sconfitta? Ma penso che la ricetta sia quello che stiamo facendo in settimana, di lavorare, di fare quello che ci chiede il mister è di continuare su questa strada. Abbiamo avuto un momento di sbandamento che ci può stare. Siamo una squadra giovane, adesso però domenica vogliamo vincere a tutti i costi. A questo punto della stagione mancano pochissime gare alla fine. Secondo lei quali sono i pregi e i difetti di questo Aleccia? Penso che siamo una squadra giovane, quindi è normale che ci siano dei momenti un po' così negativi, diciamo. Però questa squadra comunque ci mette sempre il cuore, come ha fatto anche domenica. Penso che solamente così possiamo raggiungere la salvezza. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno. Queste sei sconfitte sono state caratterizzate soprattutto da errori difensivi, errori tecnici, un po' di sfortuna, anche se poi è mancato anche il tiro in diverse occasioni. Ma fa più paura alla squadra questi errori o le sei sconfitte? Io non parlerei di errori difensivi, parlerei che in qualche partita ci è girato storto l'episodio, come posso pensare a Sassuolo che abbiamo fatto una grande partita, con il Napoli comunque l'avevamo recuperata e poi abbiamo preso il gol nel nostro migliore momento. e quindi non parlerei di questo. Dobbiamo cercare di continuare come abbiamo fatto quest'ultima partita perché sono sicuro che possiamo raggiungere la salvezza. Stefano Di Bella, Tutto Mercato Web. Sì, buongiorno. Volevo sapere in particolare il mister cosa ti chiede, qual è il lavoro che principalmente ti chiede di fare in mezzo al campo? Noi centrocampisti ci chiede di dare intensità, di comunque prenderci qualche responsabilità in più e di inserirci come comunque stiamo facendo un po' meno in quest'ultimo periodo. Però al di là di questo dobbiamo cercare di lavorare, pensare a noi stessi e raggiungere l'obiettivo che è la cosa più importante. Pasquale Marzotta Da squadra più giovane di questo campionato il fatto della rincorsa al risultato positivo, alla vittoria contro la Sampdoria, potrebbe creare anche delle ansie oppure è già messo in conto questo? No, io penso che siamo una squadra giovane, siamo comunque una squadra spensierata, al di non mi ha mai mollato niente. Lo sappiamo che siamo una squadra giovane, però sappiamo anche che con il lavoro e con le prestazioni che abbiamo fatto l'ultima partita possiamo raggiungere l'obiettivo. L'ultima, Carmen Tommaso Appunto nell'ultima partita dopo cinque gare senza andare in gol è arrivato anche il gollo. Questo può darvi fiducia e poi se lei in queste ultime nove partite tenterà di andare in gol e quindi cercherà almeno di tirare in porta? No, sicuramente il gol che abbiamo fatto ci darà fiducia, ci ha forse sbloccati. Per quanto riguarda me cerco di lavorare in settimana per fare gol, però è normale che non è facile. Penso che la cosa più importante sia la squadra. Grazie a Iusef Omalè e grazie a tutti voi.